Replica e trama del primo appuntamento della Ficzione Furore 2 Ritorna in tv su canale 5 una fizione, che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, nella prima stagione Torna dopo tanto tempo su canale 5 la Ficzione Furore, da questa sera, infatti, andranno in onda le puntate della seconda stagione di questo importante successo di Mediaset Ecco la trama, il cast e le info sulle repliche e dove vedere in streaming la puntata di questa sera Furore 2 vi terrà compagnia per ogni domenica su canale 5 alle 21,25 Giovanna il segreto dei suoi natali Giovanna, alla morte dei suoi genitori, viene a sapere che è stata adottata e parte verso una piccola cittadina ligure, per ritrovare la madre e scoprire la verità sul suo passato Intanto, altri due giovani stanno per dare una svolta alla loro vita, si tratta di Vito e Marisella, e che sono pronti a convolare a nozze Una tragedia si abbatterà su di loro, sconvolgendo le loro vite, intrecciando nuove relazioni tra i protagonisti Giovanna arrivata a Lido Ligure, conosce Franco, un poliziotto, che la difende dagli attacchi discriminatori, che subisce per le sue origini meridionali, siamo negli anni 60 e la giovane è di origini napoletane Saro, fratello di Vito, dopo la sua morte capisce di amare la dedova di suo fratello, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta di Vito Tra la coppia però c'è più di un impedimento, un legame li divide, i due non sono solo cognati, ma il giovane è il fidanzato di Giuseppina, sorella di Marisella Cast della Ficzione di Inforepliche Un intreccio di amori e misteri, tra cui la morte di Saro rendono la vicenda intricata Anche Sofia, la socia di Saro, rimane sconvolta per i fatti e per la donna i problemi sono solo all'inizio Infatti, la donna deciderà di occuparsi al posto di Saro, di un facoltoso hotel, che poi è legato proprio all'assassinio del giovane Per sapere il resto non perdetevi la prossima puntata e le future anticipazioni, che pubblicheremo sulla Ficzione Per chi volesse seguire la puntata da PC, smartphone o tablet anche tramite ARPP, è possibile farlo dal sito Mediaset Su tale sito sono disponibili, anche le repliche delle puntate dei programmi andate in onda, nei canali del gruppo La Ficzione ha un ricco cast o tre a due dei protagonisti noti al pubblico, Massimiliano Mora e a due del gesto, del cast fanno parte Remo Girone, Vanessa Gravina, Lorenzo Flaerti, Serena Grandi, Alex Belli La storia ambientata negli anni Sessanta tratta dello scontro molto presente tra Nord e Sud Italia Lo sfruttamento della manodopera meridionale da parte del Settendrione, la corruzione dei politici degli uffici La storia ambientata negli anni Settendrione, la corruzione dei politici degli uffici